Mamma mia, guarda cosa mi tocca per tirare giù Leo dal tetto Come va a tenere su? Cioè, questo sarebbe la mod effettiva quello che dove percibbero tutti i vari materiali preziosi Mamma mia, che bestia di questo dotatore Buongiorno, questo è un nuovo video, io sono Gator4, oggi siamo qui su Farming, assolutamente di una famiglia di EdoMod Allora ragazzi, oggi siamo qua, sempre da soli Perché Leo è sopra il cappannone e non vuole scendere Leo, occhio, non cadere, non spaccarti qualcosa perché devi lavorare oggi Quindi se vieni giù, attenzione Beh io non ho nulla per venire su Eh, nel senso, avrei qualche mod Aspetta, avrei un mod che ho i pompieri Ah, ok, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato Leo, state fermo lì Eh, ma sì dai lo compriamo, 26.000 euro E guarda Leo, ma Leo stai lì, vado al negozio e lo ritiro e arrivo Andiamo in farm, allora, non metto i lappeggianti Vai, via con le sirene Andiamo a salvare Leo Come si sente lo stesso Leo, però Va bene, tanto qua abbiamo un po' di cose I lappeggianti, raga, purtroppo, non so se Così fu Eh, ecco, le ho attivate, le ho attivate tutti Allora, spaventiamo la sirena, ok Con una sua, mettiamo magari il gatto Sono accesi i lappeggianti Ok, ancora lì Il nostro gatto Leo è ancora lì Perfetto, allora Eh, cerchiamo di mettere il chiamo in posizione sicura Mamma mia, guarda cosa mi tocca per tirare giù Leo dal tetto Ma come va a tenere su? Boh, alla fine, come i gatti vanno su Ma poi non sanno più tornare giù Ok, salga, salga Leo Ah, non ando giù a prenderlo io Guarda cosa mi tocca fare Vini qua, vini con me Perfetto, allora Ok, stai lì Non ti muovere Ok Dai Gattino, vieni qua Vieni verso di me Bravo Bravo Leo Vieni, vieni, vieni Leo Dai, dai Vieni Vieni Ah, ecco qua Leo Ma, eh, che succede raga? Vado a fare un po' l'esperimento Allora, questo qui è il massimo Ok, è difficile un po' muoverlo Uiiii Vabbè, eh E nulla, dai Lo ripieghiamo Vabbè, allora Ciao Leo Ciao Ciao Eh, come è stato? Come è stato stare in cima al tetto Ed essere stato dal pompiere Geiss È stato un po' pauroso Però bello Beh, mi fa molto manufacture Allora, questo mezzo qui Dai, lo mettiamo qua Comunque raga Vi volevo ricordare Di iscriverti al canale Di lasciare un commento Noi mi piace Se il video vi sta piacendo Di stare sul dito viola E sul TikTok E su Instagram E questo è il signor Leo Allora ragazzi Lasciate un like mi raccomando Allora Se volete vedere il gatto Leo Perfetto lasciate un like se volete vedere il gatto Leo Facciamo 5 like per il gatto Leo No comunque Leo in questo episodio tu dovrai Diciamo portare tutte le belle cotone che ha fatto Nel nostro episodio la nostra raccogli cotone Ovvero che le ha fatte nei campi 40, 41, 48, 75 e 68 Ah bene da poi 40 Li porti tutti allo scalo merci Ma non le vendi mi raccomando Invece io devo posizionare delle nuove produzioni Molto molto particolari Quindi Allora produzioni Le produzioni sono tante Allora c'è lo stone square Comunque questa è una mod che produce materiali preziosi Quindi oro, argento, bronzo, diamanti Insomma materiali preziosi Allora dove posizioniamo questa mod? Allora qui nell'angolo delle mod Volendo si può anche fare Perché qui si è entrata anche di un'altra sardina Quindi volendo si può fare Però lo stone query non so neanche se potrebbe servire In caso le pietre le compriamo Allora questo sicuramente lo mettiamo Allora mettiamo anche un secondo livello Allora so anche un po' di dislivello Perché intanto l'entrata è questa qui E quindi penso che così più o meno vada anche bene Quindi mettiamolo per così Perfetto E invece quello principale serve questa cosa qui Cioè questa serve la mod effettiva Quello che dove produce tutti i vari materiali preziosi Quindi mettiamo questo qui E poi mi serve anche questo che produce gioielli Questo che produce gioielli Mettiamo tranquillamente dietro Tutto qua bello attaccato così Non avevo problemi Qua prima cosa Andiamo sul reparto delle mod Ovvero le nostre produzioni Quindi produzioni Allora nuove produzioni Dove sono? Pai dirt Ah l'acqua me la prende già I sassi I sassi quanto costano? Allora 400.000 sassi Quindi full 120.000 euro Si può anche fare Qui la mettiamo in distribuzione così In automatico Va dentro all'altra farm Che è questa Ok Qui serve carburante Diesel 180.000 euro Che li metto io Intanto qua mettiamo tutto in Già in distribuzione così Manda tutto anche nell'altra farm Dove in teoria Dovrebbe essere questa Qui che produce appunto Gold gemme E qua metto tutto Nel negozio Perché prima la deve vendere Quindi tramite il gold Pensa che faccia il gold Cat statue Che non lo vedete Quindi mi taggono La mia camma Tramite il cipro Farà le stoviglie E tramite le gemme Farà appunto I gioielli veri e propri Però tutto parte Dalla Da questa farm Ok Dai sassi Raffinati Qua in questa poltiglia Questa poltiglia Bene o male Venne lavorata Quindi manca adesso Un po' di acqua Che mettiamo Con la nostra pompa A farlo Poi davanti Appunto ragazzi Noi davanti Non siamo in tempo In vendita Perché davanti Non servono Nella gioielleria Proviamo a posizionarla Se posso Sposizionare sul vicino Una stalla O una serra Ah Gli metto la fontana Qui Perfetto E prendiamo un trattore E la botte Andiamo a ricaricare Questa cosa qui Acqua Vai Scarica l'acqua Ma intanto La ricarichiamo Ma andiamo a gioco Avanti Scala ma Scala merci Sì Ma Te lo paga di più La Finlanda Ma la Finlanda Mi produce dopo gli abiti E io voglio Non voglio Altri abiti Allora Ho 2 milioni di euro E questo posso comprarlo Sì Ci sto dentro Giusto giusto Ma se dai compriamo Un'altra farm Vai Ma dei 2 milioni di euro Spesi per fatto Ma abbiamo 64 mila euro Allora in questa nuova farm Però Che si fa? Allora Ho comprato La cascina italiana E questo è Un nuovo porcile Che sinceramente Non è che ne faccio tantissimo Invece qui Che animali sono Ovvi le altre pecore Pecore Possiamo anche acquistarle Magari le acquistiamo Già che sono belle Ciccione Prendiamo 120 pecore Allora Questi animali comunque Vogliono L'acqua Quindi costruzione Produzione Edifici Sì Lo samplimento Questa è l'acqua Qui quindi È a posto Vero? E l'acqua ce l'abbiamo Poi vogliono Il cibo Quindi un po' di Un po' di paglia Sì paglia Buonanotte Un po' di pieno Però è 45 Ma sì Anche se in debito Ma sì dai sti cazzi Vado a fare un po' Un po' di pieno In questo episodio Raga Però Io qui vorrei tenere Un trattore Molto molto Qui non da tenere Sempre delle pecore Così giusto per averlo Vediamo se un trattore Tipo così Vecchio Il zelfino Il zelfino vorrei avercelo Sai che carino La targa non si può cambiare No la targa non si può cambiare Vabbè Dai compriamo pure il Il zelfino Così Giusto per Averlo Anche per Esposizione No è scarico merci Che in Finlandia Vabbè scarica Vabbè Metti un Metti quel carico Lì Non è un problema Ma qua che cos'è Ah è per cambiare Gli abiti E' un po' L'esplorazione Di questo luogo La porta non si apre Ma è il porcile Ah questa è la casa Ma in effetti Ma insomma Bah Mi sembra strana come casa Sinceramente Molto strana Ok allora Ma che poi stavo pensando Roland è autoload Autoload Sì perfetto Autoload 22.000 euro E le balle vanno bene tutte E vai compriamolo Allora Magari Aspetta Li posso cambiare Il colore Mamma mia se spinge Questo delfino Ragazzi Blu O nero Vabbè E niente Quindi tutti Volevano nero Ok Mo Rampo 45 E andiamo A Caricare se balle Comunque Oh Anche in salita Ma il trattore Non tira Non molla Mamma mia Che best Di questo trattore Spura sui tornanti Veramente Guarda qua Fummi i tornanti E Oppela Allora Mo Carellino Posizione operativa Vediamo se le carica Spero proprio di sì Ok Le carica Ok Mo Devo entrare per di qua Eh La facciamo Sì Cosa facciamo Mamma mia Che potenza E Queste qua Mo Dove vanno Dove hanno mangiato Le nostre amiche Ah Eccolo qua Carico le balle qua Le nostre amiche Pecore Perfetto Tutte belle che scaricate Vediamo se Le nostre Nove pecore Stanno bene Perfetto Sì Stanno molto bene Adesso c'è un problema Praticamente Io stavo andando Dritto per dritto Mi è sporato Sotto una balla Il trattore Una balla Aspetta fammi vedere Questa è colpa tua eh Cioè te che metti Le palle dentro fuoco No no Io ho messo l'operaio Eh Leo Sì è l'unica No no Piano Ti ricordo La super forza È Una mod Molto Utile Ma Pericolosa Leo Basta Non fa Rilasciala Rilasciala Leo Ascoltami Perfetto Ah Dopo C'è il volo Godo Dai Le carico io Allora ragazzi Dai Sono andati qua Da scalomerci Vai Carichiamo già Tutte le varie balle Così Le vendiamo E facciamo soldi Forse In teoria Ricopriamo anche i soldi Che abbiamo 195 mila euro Mi sa che il debito Fa più alto Di 300 Vabbè Comunque ragazzi Da me Leo è tutto Noi ci vediamo In un prossimo episodio Per di qua C'è il tasto per iscrivervi al canale Per di qua C'è la copertura Di un altro video Che potrebbe interessare E Tutta la serie Di questi 92 episodi E nulla A me è tutto Da Leo Anche Che vi ricordo Che in descrizione C'è il suo Canale Twitch E Niente Ci vediamo Ad un prossimo episodio Bella